in collaborazione con aeroporto internazionale di napoli carpisa yamamai una produzione vg channel non si è ancora spenta l'eco delle festività natalizie che 19 ben 19 chef molti stellati molti altri li conoscete perché sono famosissimi e sempre alla ribalta hanno deciso di incontrarsi per dar vita ad una serata quando mangio mi sento un re è una serata della quale vi parleremo in questa nuova puntata di cibo e dintorni eccomi con paolo gramaglia che è l'unico che ci può spiegare davvero come è nata questa incredibile socializzazione 19 chef tutti pro manitese credibile perché manitese ci ha unito tutto lascia a milano durante l'espo quando sono stato nominato ambassador o testimonial gastronomico per manitese la cosa è bellissima perché manitese ci ha stimolato in una maniera incredibile per il diritto al cibo pensate che già negli antichi romani in italia era garantito il diritto al cibo oggi è diventato una conquista e poi garantire il cibo dei bambini che oggi mangiano ma non sappiamo se mangeranno domani o mangeranno tra una settimana ecco che qui è stato di stimolo a milano è partito all'idea facciamo una scena di beneficenza pro bambini del terzo mondo che non possono mangiare garantiamo un attimo di cibo a questi bambini come in una serata strepitosa in una serata informale divertente facendo beneficenza con semplicità come unendo 12 anzi 18 poi sono diventati oggi 18 grandi chef uniti per manitese questa è la cosetta incredibile poi ti devo dire che sono arrivato sponsor location favoloso a villa lucrezia è stata molto gentile ed eccoci qua per mani tese non è stato difficile oggi è l'onore che ci da portare questa giacca bianca e immenso perché tramite questa giacca bianca oggi riusciamo a fare qualcosa per i bambini che non mangiano tutte 18 da elencare perché le stelle non stelle loro sono la forza io diciamo che loro sono diventati testimonial di mani tese tutti gli chef sono diventati testimonial di mani tese voi siete diventati testimonial di mani tese gli sponsor oggi siamo tutti per mani tese eccomi in cucina nelle cucine di villa lucrezio con fabio ometo anche tu sei reduce dai sei mesi non stop in expo quindi questa è stata veramente insomma una organizzazione impegnativa perché mettere insieme tanti di voi con i vostri impegni qual è stata la difficoltà maggiore no diciamo che non ci sono state nessuna difficoltà perché fortunatamente gli chef quando sentono un evento del genere il loro nobile animo li porta subito ad una partecipazione in assoluto in toto quindi diciamo però come farete a ciascuno di voi dovrà preparare qualcosa cioè come farete a sincronizzare i tempi siete abituati ognuno di voi abituato a fare il re della propria cucina e qui invece chi si sentirà un re saranno gli ospiti certo assolutamente vabbè sarà molto semplice prevale sicuramente il buon senso per la riuscita dell'evento quindi adesso siamo in fase di preparazione stasera durante il servizio tutti quanti ci occuperemo dell'impiattamento e quindi della buona riuscita del servizio ecco Fabio possiamo dare qualche anticipazione sul sul menù per esempio sì preferirei parlare più che del menù nel dettaglio del tipo di cucina tutti gli chef del napoletano gli chef campani in particolare sono molto radicati nella tradizione e quindi tutti i piatti dall'antipasto fino ad arrivare a dessert sono piatti preparati assolutamente con prodotti del territorio quindi avremo dei crostacei freschissimi avremo il pesce pescato avremo la pasta di grano duro di Gragnano insomma tutto nel rispetto della nostra spettacolare enogastronomia campana e anche della stagionalità Alfonso Crisci è un altro dei quattro caposquadra diciamo che hanno messo in piedi questa incredibile serata con 18 chef forse 19 ma Fabio Meto dice che la cosa non è stata difficile io mi chiedo come si fa a preparare per tante persone tanti piatti ognuno ha portato con sé la propria brigata come vi siete organizzati? Allora innanzitutto ringraziamento va ai sponsor che ci hanno sostenuto hanno diciamo sponsorizzato tutti questi elementi per poter realizzare questi piatti poi tutti quanti noi come ben vedete ognuno ha la sua brigata che riusciamo a lavorare ognuno nel suo reparto per preparare questi piatti però in base c'è stata una preparazione già fatta qualche giorno fa da tutti noi definiamo tutti i piatti tutti quanti insieme diciamo un coordinamento insieme tutti insieme che riusciamo a svolgere questa attività Ma qui nel dettaglio che cosa state preparando? Qua stiamo preparando un baccalà fatto proprio da noi a bassa temperatura su un gaspacio di pomodoro e un gelato di mozzarella ovviamente sono tutti i piatti di tutti noi legati alla tradizione però sempre con una nota innovativa Adesso ci spostiamo dal lato della pasticceria per conoscere il quarto dei caposquadra così mi piace chiamarli promotori di questa serata Venite Giovanni De Vivo è il responsabile della squadra chiamiamola così dei pasticceri una meraviglia io poi sono golosa si sa i nostri ascoltatori lo sanno in quanti dovete essere impegnati qui per preparare tutti i dolci? Siamo 5-6 chef impegnati per questo dolce Un unico dolce venuto dalle idee di Tutti Insieme? Sì, l'abbiamo collaborato tutti insieme Lo posso spiegare? Sì, di che si tratta? Abbiamo un tortino di castagne fatto con le castagne abbinato con un vino Taurasi e la melanurca con un prato di erba all'olio extravergine d'oliva alla menta e una terra di caprese con dei fiori eduli e qualche altra decorazione che stiamo ancora creando Nel frattempo lui parla, io nel frattempo di glutisco perché sarà sicuramente un gran successo Adesso però cerchiamo di capire davvero perché questa serata è così importante ascoltando dalle parole di uno dei responsabili di Manitese dove andranno a finire i soldi che verranno raccolti? Venite I soldi andranno a sostenere due progetti in particolare che Manitese porta avanti in due paesi in Africa Benen e Sud Sudan sono entrambi dei progetti di sovranità alimentare e diritto al cibo che sostengono le comunità locali per lo sviluppo rurale Ecco, la dottoressa Michela Esposito è la responsabile nazionale di Manitese del progetto Quando mangio mi sento un re abbiamo sentito quindi che il progetto ha davvero delle finalità straordinarie ma Manitese non è solo questa manifestazione Che cosa fa la vostra associazione? Manitese è un'organizzazione non governativa nata 51 anni fa e implementa progetti di cooperazione internazionale di lotta alla fame in ben 11 paesi del mondo, del sud del mondo Morire di fame è purtroppo ancora una realtà, una cosa che succede? Purtroppo ci sono quasi 800 milioni di persone oggi nel mondo che muoiono di fame Ecco, allora una serata come questa è sicuramente una serata importantissima e noi adesso al posto del consueto et voilà abbiamo preparato un'altra sorpresa per voi Ecco, prima della sorpresa io devo disturbare, scusami Laura Gambacorta ha presissima perché lei l'ha detto stampa su Napoli per questo evento Quando mangio mi sento un re perché con te dobbiamo necessariamente ringraziare tutti quelli che hanno consentito la realizzazione di questa sera In realtà è un elenco quasi infinito, intanto cominciamo a ringraziare tutti i cuochi stellati e non che hanno dato veramente un contributo determinante Antonio Arfè, Peppe Aversa, Paolo Barrale, Salvatore Bianco, Alfonso Crisci, Giovanni De Vivo, Giacomo De Simone Arturo Fusco, Paolo Gramaglia, Vincenzo Guarino, Renato Martino, Michele Mazzola, Fabio Meto, Mario Pollio, Antonella Rossi Lino Scarallo, Peppe Stanzione, Luigi Tramontano e Raffaele Vitale Ce l'abbiamo fatta Però ci sono tante altre figure e associazioni che dobbiamo ringraziare Gli sponsor sono tantissimi e facciamo un ringraziamento collettivo, non li citiamo perché se no siamo qui alla trasmissione, sforiamo con i tempi della trasmissione Un altro ringraziamento doveroso va ai metri della Mira Campania che si sono messi a disposizione e che hanno gestito egregiamente il servizio questa sera e ai sommelier dell'AIS, della delegazione di Napoli e dei comuni vesuviani che anche loro hanno aderito al nostro appello con grande entusiasmo Allora adesso siamo pronti per il gran finale perché davvero Quando mangio mi sento un re a favore di Manitese è una gran bella manifestazione che noi speriamo si possa poi riproporre anche nei prossimi anni Per oggi è tutto, arrivederci alla prossima Quando mangio mi sento un re! Ciao! 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 Ciao!